Allora, secondo anno, benvenuti Nexi a Campus Party, possiamo incoronare Nexi tra gli amici di Campus Party. Allora, prima domanda che stiamo facendo a tutti più o meno uguali, cosa ne pensi di Campus Party? Domanda abbastanza ovvia però ormai. Allora, Campus Party è appunto per noi il secondo anno ed è sempre speciale, quindi direi che è magico, perché qui si crea una stranissima energia, che è l'energia delle idee, della positività, della contaminazione, della condivisione e questo veramente lo rende unico, unico nel suo genere, un evento in cui essere, tornare ad essere e ogni volta essere felici di essere qui, che bellissimo. Meno male, meno male. Nexi è uno sponsor di quelli, cioè proprio veri proprio, perché una sponsorship di solito è sempre tanta visibilità, però Nexi vuole veramente contaminarsi, ci sono tantissime attività di Nexi a Campus Party e una è la Call for Ideas. Sì, la Call for Ideas è una Call for Ideas speciale per noi perché è molto legata al nostro business. L'idea è quella di provare a raccogliere qui, abbiamo già un sacco di belle idee che sono state in qualche modo portate a Nexi su come fare evolvere i servizi digitali per le piccole attività commerciali. Quindi parliamo di piccoli retail e l'idea è proprio quella di capire cosa i ragazzi hanno in mente per aiutare i piccoli esercenti nella loro evoluzione quotidiana di come gestiscono magari il proprio negozio in termini di ciclo di produzione, piuttosto di, se parliamo ad esempio di pasticcerie o di piccoli esercenti di quel tipo, oppure come ragionano per gestire meglio la sicurezza all'interno del punto vendita piuttosto che il personale o cose di questo tipo. Tutte idee che entreranno a far parte della nostra offerta di business all'interno dello SmartPost che è in grado di ospitare tutte le app che vi vengono in mente, quindi l'importante è che siano utili per i nostri esercenti. L'anno scorso abbiamo già fatto una call for ideas, una di queste idee è entrata all'interno dello SmartPost e oggi è in distribuzione su 12.000 esercenti. Quindi per noi è molto importante perché questo vuol dire anche contribuire verso i ragazzi e stimolarli a pensare e quindi è come dire, è un po' uno scambio, da una parte noi raccogliamo le idee e dall'altra parte però abbiamo accesso alla nostra rete distributiva che ha un valore indubbiamente importante per chi inizia qui la propria avventura imprenditoriale. Esatto, e questo infatti si può ridurre ad una sola parola, contamination. Abbiamo anche un'area contamination a Capus Party quest'anno e quindi cosa si aspetta Nexi per il secondo anno consecutivo come risultato alla fine di queste tre giorni? Eh beh, proprio la contaminazione, contaminazione che è su un fronte, se vuoi più formale, l'azienda e i ragazzi di Capus Party. Dall'altra parte c'è un'ulteriore contaminazione, cioè che è quella dell'azienda di per sé stessa. Noi abbiamo portato qui un sacco di e-manager, abbiamo portato qui i nostri clienti banche, ieri erano qui con noi e non potevano crederci di che cosa fosse questo mondo e quando hanno visto il fermento che c'era, poi sono arrivati durante l'ospedio di Burners League, quando hanno visto il village, quando hanno visto l'energia che c'era qui hanno capito che c'è un altro mondo che è un mondo per fortuna vivacissimo di ragazzi che hanno voglia di cambiare, di generare il codice sorgente del mondo che sono qui e hanno capito che c'è un valore straordinario nel entrare in questo ecosistema. Le banche ci entrano attraverso Nexi, qualche banca per la verità è in limiti, è qui con noi e con loro già lavoriamo in questa logica di contaminazione, però devo dire qui proprio è tutta una contaminazione, è una contaminazione culturale dei nostri manager rispetto a questa attività, è una contaminazione perché abbiamo fatto una selezione, c'erano qui 70 ragazzi per alcune posizioni per lavorare in Nexi ed è una contaminazione tra azienda e Campo Zero per condividere anche la visione di business, è fantastico, è fantastico, quindi grazie a voi e veramente grazie all'energia che ci mettete nel dedicarvi con la vostra passione e con le vostre vision anche al business. Allora grazie a Nexi e ci vediamo l'anno prossimo. Allora grazie a te vediamo